immaginate di tornare alla notte del 17 maggio del 2006 e di trovarvi a parigi allo stade de france davanti a circa 80.000 spettatori più precisamente al centro del terreno di gioco pronti a scendere in campo per contendersi la vittoria della 51esima edizione della champions league da una parte troviamo una se non la miglior squadra inglese dove i giocatori solo due anni prima si sono guadagnati soprannomi di invincibili stravincendo il campionato sotto la guida sapiente di arsène bengher un gruppo formato da numerosi campioni come sul campbell ses fabregas robert piret ma soprattutto dal suo leader tecnico e trascinatore che risponde al nome di thierry henry i gunners dopo il primo posto in premier league della stagione 2003-2004 e il secondo posto dietro al celsi nella stagione successiva vogliono provare a conquistare il trofeo per club più prestigioso alla loro prima apparizione in finale dall'altra parte si troveranno contro la miglior squadra spagnola dominatrice degli ultimi due campionati in cerca del suo secondo successo nella massima competizione europea anche in questo caso i campioni non mancano basta pensare a puyol deco eto un giovanissimo lionel messi ma anche in questo caso come nell'arsenal c'è un giocatore che accende la luce più degli altri nelle ultime stagioni la scena se l'è preso un giovane giocatore brasiliano iscritto all'anagrafe come a ronaldo de assis moreira chiamato più semplicemente ronaldinho il fuoriclasse verde oro sta letteralmente diventando l'incubo di ogni difensore capaci di giocate nemmeno immaginabili per gli altri i giornali a pochi giorni dall'inizio della partita come ovvio che sia parlano tutti della sfida tra henry e ronaldinho e nei loro articoli si chiedono chi dei due risulterà più decisivo d'altronde stiamo parlando di due fuoriclasse che grazie alle loro prodezze si sono presi anche le copertine dei videogiochi calcistici più importanti del mondo anche se in questi casi succede che a prendersi la scena in questo tipo di incontri non sono i giocatori più attesi ma quelli più insospettabili e anche in questo caso a decidere la sfida sarà uno dei giocatori meno attesi per trovare le origini del successo del barça dobbiamo tornare all'estate del 2003 più precisamente al 15 giugno data in cui io alla porta viene eletto come nuovo presidente del barcellona qualche giorno dopo il 24 giugno frank reichard viene ufficializzato come nuovo allenatore dei catalani il tecnico olandese arriva dall'esperienza sulla panchina dell'olanda a euro 2000 raggiungendo la semifinale poi persa contro gli azzurri e dall'approdo sulla panchina dello sparta rotterdam una storia qualata dal tecnico il club che non sboccerà mai causa la retrocessione nella serie biolandese e per i rapporti non idilliaci con la dirigenza e la squadra che terminerà con le dimissioni nel maggio del 2002 reichard dalla sua prima stagione in catalunia dopo un avvio difficoltoso che ad un certo punto della stagione posiziona il barcellona meno 17 dai blancos primi in classifica riesce a portare la sua squadra al secondo posto dietro al valencia campione di spagna invertendo la rotta della stagione sostanzialmente con due mosse passaggio dal 4 2 3 1 al 4 3 3 e con l'acquisto nel mercato di gennaio di edgar david questi cambiamenti porteranno ronaldini e compagni a vincere 17 delle ultime 20 partite nell'estate successiva al tecnico olandese la dirigenza decidono di puntare in alto effettuando una vera e propria rivoluzione arrivano a barcellona deco larsson eto julie ed milson e belletti che si riveleranno tutte pedine fondamentali nel garantire funzionalità al sistema di gioco tutti questi accorgimenti porteranno il barcellona a trionfare nella liga con quattro punti di vantaggio sui nemici storici del real madrid il rovescio della medaglia è una campagna europea deludente vista l'eliminazione per mano del celsi di josé murigno agli ottavi di finale rai card nonostante l'eliminazione dichiara di percepire rispetto agli inizi un'energia completamente diversa tanto in campo quanto nello spogliatoio nell'estate che porta la stagione 2005 2006 il barcellona puntella la rosa con gli arrivi di van bombel e santi escherro il cammino che porterà la squadra di frank e rai card alla finale di parigi inizia i gironi dove il barça viene sorteggiato nel girone c insieme al verder brema al panatinecos e all'udinese guidata da serse cosmi gli spagnoli fanno loro esordi in germania contro il verder brema uscendo vittoriosi per 2 a 0 grazie alle reti di deco e ronaldini su rigore sono senza storia anche le successive partite unico neo sarà il pareggio per 0 a 0 in grecia contro il panatinecos che non permetterà ai blaugran di chiudere il girone a punteggio pieno i catalani termineranno la prima fase del torneo al primo posto con 16 punti 16 gol fatti e solo due subiti il sorteggio degli ottavi presenta ai catalani la possibile rivincita sul celsi che l'anno precedente riuscì ad eliminare gli spagnoli della competizione nella sfida di andata giocata stanford bridge a favorire la squadra spagnola è l'espulsione al minuto numero 37 di de l'orno autore di un brutto fallo su messi tutto ciò non scoraggia il celsi che trova addirittura il vantaggio con l'autogol di tiago motta dopo gli sviluppi di un calcio piazzato il barcellona reagisce e trova il gol del pareggio sempre con un autogol su sviluppi di calcio da fermo questa volta sarà john terry a mettere la palla nella sua porta battendo un incolpevole peter check il gol della vittoria arriva con eto a 10 minuti dal termine che con un gran colpo di testa batte il portiere dei blues per la seconda volta la sfida di ritorno vedrà i giocatori del barcelona dominare buona parte del match ma anche il celsi riuscirà a rendersi pericolosi in più occasioni arrivati alla parte conclusiva della sfida la tensione anche per ciò che è successo l'anno prima sale sempre di più a distendere gli animi dei tifosi ci pensa il fuoriclasse brasiliano con un gol dei suoi che fa esplodere cam no slalom speciale e destro raso terra a negare la vittoria finale sarà rigore di lampard segnato quasi allo scadere che in termini di passaggio del turno non cambia nulla regalando la rivincita al barcellona ai quarti di finale tocca al benfica di fabrizio miccoli sfidare i campioni di spagna la partita di andata giocata in portogallo vede un sostanziale equilibrio con entrambe le squadre che hanno la possibilità di segnare e di prendersi un vantaggio sull'avversaria niente da fare la partita termina per 0 a 0 il passaggio del turno si deciderà barcellona la squadra di rai card sa di avere un'occasione unica per accedere alla semifinale e nella sfida di ritorno riesce ad imporsi per 2 a 0 grazie alle reti di ronaldigno e dietro eliminando i portoghesi e approdando in semifinale nella loro personalissima scalata verso l'olimpo gli uomini di rai card devono affrontare una delle squadre europee più forti e complete il milan di carlo ancelotti è reduce della cocente delusione dell'anno precedente che ha visto la squadra rossonera perdere una partita a dir poco incredibile contro il liverpool di rafa benitez perciò dopo quanto accaduto le motivazioni di rifarsi per i rossoneri sono altissime a detta di molti questa sarà una finale anticipata tra due delle squadre più forti del mondo quando i valori in campo sono così ravvicinati serve il dettaglio per far appendere l'ago della bilancia da una parte dopo il palo preso da gilardino arriva la magia del fenomeno brasiliano l'assist di ronaldigno per julie è da stropicciarsi gli occhi giravolta su gattuso e palla a tagliare la difesa del milan in quel corridoio si inserisce l'esterno francese che batte dida sul primo palo segnando il gol del momentaneo 1 a 0 che alla fine risulterà essere decisivo per il passaggio del turno la notte del 26 aprile del 2006 i rossoneri ci provano in ogni modo a ribaltare il risultato dell'andata tanto che ad un certo punto shevchenko riesce a girare in rete un cross arrivato della tre quarti in maniera abbastanza inspiegabile l'arbitro tedesco merck annulla la rete fischiando fallo su puyol da parte dell'attaccante ucraino che non ci sta e si lamenta con il direttore di gara sicuro di non aver commesso nessun tipo di infrazione le proteste dei rossoneri non portano a nulla e la partita viaggia verso un sostanziale equilibrio che porterà la squadra di frank e reichard a qualificarsi per la finale che si giocherà allo stad de france di parigi eliminando una delle pretendenti più serie per la vittoria finale il barcellona incontrerà nell'atto conclusivo del torneo l'arsenal che nel suo percorso è riuscita ad eliminare il real madrid la juventus e in semifinale il via real di richelme non mi interessa quello che si dice all'esterno so per esperienza che in finale non ci sono favorite è una partita secca e ci sono molti fattori che possono influenzarla la tensione il nervosismo la strategia tattica il modulo bisogna andare in campo convinti di farcela ma non accetto che si parli di favorite la sera del 17 maggio del 2006 dopo giorni di attesa si gioca la finale della 51esima edizione della champions league e gli occhi sono tutti puntati su due giocatori più forti del momento a partire fortissimo è l'arsenal di wenger al re impegna subito victor valdez che a tu per tu con il francese salvo un gol già fatto i gunners creano altre occasioni da gol ma la partita al minuto numero 17 prende una strada ben definita ronaldino mette in porta nel vero senso della parola eto che sposta il pallone prima che le man possa intervenire il portiere tedesco stende l'attaccante camerunese al limite dell'area l'arbitro norvegese aughe non può far altro che speller l'estremo difensore lasciando l'arsenal in 10 per il resto del match episodio che non sposta di un millimetro la voglia di vittoria finale da parte dei ragazzi di wenger che al minuto numero 37 passano in vantaggio con un colpo di testa di sol campbell grazie ad un assist perfetto di harry il primo tempo si chiude sul risultato di 1 a 0 per l'arsenal in inferiorità numerica per il barcellona ce la segnalare il palo di eto quasi allo scadere a cambiare la partita sono i cambi fatti dal tecnico olandese che fa entrare in campo ignesta larsson e belletti la mole di gioco del barcellona cresce sempre di più con il passare del tempo ma è l'arsenal ad avere le occasioni più nitide per chiudere i conti c'è un vecchio detto che dice gol sbagliato gol subito mi correggo più che un detto questa potrebbe essere una regola al 32esimo arriva la grande giocata di larsson che porge una palla d'oro a eto che insacca raso terra tra palla e portiere come nelle scene finale dei film inizia a piovere a dirotto su parigi il barça è un fiume in piena l'arsenal fisicamente e mentalmente è al limite delle sue forze in questo momento entra in scena uno dei giocatori meno attesi nemmeno titolare ad inizio partita larsson fornisce suo secondo assist di giornata questa volta per il terzino destro belletti che si presenta davanti ad almugna e lo fredda con un tiro che passa sotto le gambe del portiere dei londinesi gli ultimi minuti della partita servono solo per congelare il pallone da parte degli spagnoli che al triplice fischio vincono la loro seconda champions league che mancava da ben 14 anni dalla loro bacheca il barcellona vincerà anche il campionato andando a scrivere una fetta importante della storia del club ciò che rimane negli occhi di tutti è la straordinaria stagione del fenomeno con il numero 10 sulle spalle di cui è inutile ripercorrere le gesta e le emozioni che ha portato nelle persone perché tutto questo sarebbe superfluo a volte bene ricordare ciò che abbiamo avuto la fortuna di vedere visto che all'epoca probabilmente nemmeno ci facevamo caso dando il tutto per scontato e pensando che quei momenti potessero non finire mai